Chiarezza, è quanto chiede il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi a DEMA, DCM e DAR dopo l'incontro con i lavoratori a rischio licenziamento. In particolare, i dipendenti di CM chiedono lo stesso trattamento dei colleghi della DEMA se e quando la soluzione all'avvertenza dovesse arrivare. 200 i lavoratori a rischio per un settore, quello aeronautico, in crisi ormai da tanto, troppo tempo. Chiarezza non c'è e questo fa male, fa male in primis ai lavoratori, al territorio e io penso che il governo debba quanto prima convocare nuovamente questo incontro obbligando l'azienda a mettere le carte sul tavolo. Cosa vuole fare? Il primo cittadino ha ricevuto una delegazione di lavoratori accompagnati dal sindacato Cobas. Al termine dell'incontro, Rossi ha ribadito la necessità di un tavolo di confronto con il governo centrale per allontanare lo spettro del licenziamento da 200 famiglie, così come è sottolineato anche il sindacato Cobas con Roberto Aprile. Chiediamo che qualsiasi possibilità possa esserci per i lavoratori di DEMA, di DARD e due stabilimenti brendesini possano essere eseguiti anche dai lavoratori della DCM che ad aprile finiscono la cassa integrazione e diventano disoccupati.